Elena Bellardita, si parla tanto di città metropolitana di Catania, si parla tanto di liberi consorzi, nel momento attuale Gela è nel libero consorzio di Caltanissetta. Cosa potrebbe accadere da oggi a domani e quando realmente Gela potrà far parte dell'area metropolitana a Catania? Quello che noi registriamo è che Gela è ancora nel libero consorzio di Caltanissetta e in più registriamo anche il fatto che Bianco ha indetto per il 20 novembre prossimo le elezioni di secondo livello per la città metropolitana di Catania. Per cui, voglio dire, si fa un gran parlare da parte di tutti, in particolare del nostro sindaco. Sappiamo che ha dedicato anche uno spazio della sua relazione annuale all'attività che l'amministrazione ha fatto per favorire e incentivare e concretizzare il passaggio di Gela alla città metropolitana di Catania, ma mi pare che i fatti ad oggi parlino più di tante parole. E dunque voi cosa dite oggi come Comitato Gerensis Populus al primo cittadino di Gela? Di attivarsi immediatamente. In ogni sede, noi a questo punto pensiamo alla sola sede giudiziale, perché gli manca solo questa. Del resto, voglio dire, lo ha anche pubblicamente detto lui all'indomani della seduta dell'Assemblea regionale in cui si era sancito la bocciatura definitiva dei disegni di legge. Lui, la prima dichiarazione che ha fatto pubblicamente, è stata quella di adire le vie legali. Per cui noi oggi, con la nota che abbiamo diramato e con questa occasione, chiediamo al sindaco che cosa ha fatto dall'indomani della bocciatura ad oggi. Il ricorso di cui parlava, che fine ha fatto. La concertazione delle azioni con le altre comunità, che fine ha fatto. Le tante diffide che sono state inviate, da ultimo anche a bianco, di non indire le elezioni, che fine hanno fatto. I fatti ci dicono proprio che non hanno sortito alcun effetto. Dunque domande che al momento attuale non hanno alcuna risposta. Riteniamo che il passaggio alla città metropolitana di Catania sia fondamentale e doveroso per due ordini di ragioni. Primo, perché abbiamo sempre ritenuto, e questo è risaputo, che il rispetto della volontà popolare che è stata democraticamente espressa è assolutamente imprescindibile. E poi, perché riteniamo che il completamento dell'iter amministrativo, questo lo abbiamo sempre sostenuto, è fondamentale ed è precedente, preliminare il rispetto a qualunque tavolo in cui si discuta di politiche di sviluppo, di politiche di investimento per un territorio come quello di Gela, che si deve reinventare, deve reinventare il proprio futuro. Per cui riteniamo che questo passaggio sia assolutamente doveroso.